Le condizioni climatiche consentono l'appiccare del fuoco e anche la sua propagazione, però bisogna intervenire non soltanto con dei mezzi efficaci nel momento degli incendi che sono anche inferiori a quelli che richiederebbe lo Stato, cioè quindi anche il Gargano e tutte le foreste, perché non è pensabile che se si incendi il Vesuvio non si possa spegnere incendio sul Gargano o se si incendi un parco all'interno della Toscana non si possa spegnere poi un incendio all'interno di un parco dell'Abruzzo. Ecco, c'è bisogno di aumentare le dotazioni infrastrutturali per gli interventi e poi ritengo che sia stata fuori di luogo e i risultati sono anche sotto gli occhi di tutti quanti, la soppressione e l'accorpamento del corpo forestale, perché quei tecnici che erano rappresentati da chi conosceva le foreste, da chi aveva competenze specifiche e che aveva anche capacità di intervento, oggi diventa molto ma molto più complesso e soltanto i Canadair, probabilmente quei pochi che ci sono, non riescono a fronteggiare questa furia omicida di menti criminali che appiccano gli incendi, probabilmente per attività speculative o per guadagnare da qualche altra parte. Vorrei richiamare tutte quante le istituzioni, ma anche i cittadini per la loro attività morale, civica, personale, ad utilizzare meglio ciò che si ha a disposizione, le istituzioni, i fondi che ci sono all'interno degli enti. Io ricordo di aver firmato un piano antincendio e che abbiamo fatto validare nel Parco del Gargano quando facevo il presidente del parco, quel piano poi è passato negli uffici tecnici, non so a che punto sia, mi auguro che lo stiano attivando perché prevedeva anche fonti di finanziamento. Anche sul piano di sviluppo rurale 2014-2020 ci sono fondi per incentivare la pulizia di tutte quelle buffer zone che sono quelle fasce tampone, ad esempio le cunette all'interno delle strade o zone che devono essere tenute pulite perché altrimenti diventano una miccia. Quindi dobbiamo lavorare tutti quanti perché i fondi ci sono nelle amministrazioni, però bisogna realizzare queste opere infrastrutturali di prevenzione.